Dal 1 ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che vorranno operare nei cantieri edili dovranno essere dotati della patente a crediti. Questa importante novità comporta anche un obbligo per tutti i committenti e responsabili dei lavori di ristrutturazione o costruzione del proprio edificio o appartamento. Infatti il nuovo obbligo impone che chiunque debba ristrutturare o costruire a casa dovrà verificare che tutte le imprese o i lavoratori autonomi che sono coinvolti abbiano la cosiddetta patente a crediti. Ma che cosa significa esattamente questo? Seguitemi fino alla fine del video per saperlo. Per chi non mi conosce sono Maurizio Della Porta e aiuto le persone a difendersi dal terremoto. Mi occupo di progettazione strutturale di edifici nuovi, miglioramento sismico di quelli esistenti e di valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro. Se vi serve una consulenza in videochiamata visitate il mio sito web e per non perdere i prossimi video iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche. Come anticipato all'inizio del video dal 1 ottobre 2024 qualcosa è cambiato. C'è un nuovo obbligo per chi vorrà ristrutturare il proprio edificio e il proprio appartamento. In particolare tutti i committenti e responsabili dei lavori devono controllare che le imprese e i lavoratori autonomi che operano presso il loro edificio o appartamento siano in possesso della patente a crediti e vedremo tra poco che cosa è la patente a crediti. Le imprese stiamo parlando di tutte le imprese non solo imprese edili ma qualunque tipologia di imprese. Attenzione perché nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non verificano il possesso della patente a crediti da parte di tutte le imprese lavoratori autonomi che lavorano presso il cantiere rischiano una sanzione amministrativa e anche questo vi farò vedere tra poco di quanto si sta parlando. Ma che cos'è la patente a crediti? Da 1 ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili come definiti dall'articolo 89,1 lettera del testo unico della sicurezza saranno obbligati a possedere la patente a crediti. Prima di tutto andiamo a come dire capire che cosa si intende per cantieri temporanei e mobili. Vediamo appunto che nell'articolo 89 del testo unico della sicurezza comma 1 lettera A il cantiere temporaneo o mobile viene denominato cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X che qui vediamo. Quindi attenzione lavori edili o di ingegneria civile. L'allegato X o 10 elenco dei lavori edili o di ingegneria civile sono i seguenti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione o rinnovamento o smaltimento di opere fisse permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali comprese tutte le parti strutturali delle linee elettriche eccetera eccetera. Quindi stiamo parlando veramente di tutto ciò che è ingegneria edile civile e lavori edili. Quindi rientrano in questi aspetti chiaramente in questa tipologia anche la ristrutturazione del singolo appartamento. Quindi non c'è una differenzazione fra grandi cantieri o piccoli interventi. Questa è la definizione e per questi tipi di cantieri, ripeto, tutte le imprese e i autonimi dovranno avere la patente a crediti. Chi è che invece non deve chiedere la patente a crediti? Cioè la normativa esclude dei soggetti. Tra questi sono chi fornisce solo bene, quindi semplici fornitori, ok, di beni materiali, chi svolge prestazioni di natura intellettuale, quindi per esempio noi professionisti, ingegneri, geometri, architetti che fanno magari la direzione dei lavori, architettonica, strutturali, impiantistica, in cantiere per esempio. E poi infine sono escluse anche le imprese con attestazione di qualificazione SOA di classifica pari o superiore alla terza. Quindi anche questa tipologia di fattispecie non deve chiedere la patente a crediti. Ma che cos'è questa patente a crediti? La patente a crediti ha un ponteggio iniziale di 30 crediti, permette di lavorare nei cantieri se la patente ha almeno 15 crediti e al massimo ci potranno essere su questa patente 100 crediti. Come funziona l'assegnazione dei crediti? Ci sono 30 crediti al rilascio della patente come crediti base, poi ci sono dei crediti che vengono assegnati per storicità aziendale fino a 30 crediti, di cui 10 crediti fino a 10 crediti al rilascio in base all'iscrizione della camera di commercio. Più un'impresa o un lavoratore autonoma iscritto da più tempo alla camera di commercio maggiori saranno i crediti che gli verranno assegnati. E poi c'è un credito che è collegato all'attività quindi al tempo che passa, un po' come la patente a punti che ci permette di guidare le nostre auto. Infatti qui viene dato un credito aggiuntivo per ogni due anni in cui non vengono effettuati infrazioni. Al massimo questi saranno 20 crediti. Poi ci sono anche 40 crediti ulteriori per investimenti o formazioni in salute e sicurezza. Quindi sommando un po' tutti questi comunque non potranno mai essere più di 100. Quando uno ha un punteggio inferiore a 15 crediti non potrà più operare in cantiere però la normativa permette di completare l'appalto o subappalto se in quel momento i lavori sono eseguiti saranno già oltre il 30 per cento del valore del contratto. Quindi questo è un po' il modo di operare della patente a crediti. Ma come funziona il controllo da parte del committente dei responsabili del lavoro? Insomma è un controllo facile perché comunque diciamo adesso vi farò vedere ma è essenziale per evitare appunto sanzioni. Prima di avviare i lavori e secondo me conviene anche periodicamente durante tutta la durata dell'intervento. Mettiamo che l'intervento dura 6-7 mesi è importante che venga eseguito questo controllo perché l'azienda potrebbe subire delle decurtazioni sulla patente anche in altri cantieri. Quindi voi potete anche non saperlo. Quindi chiedetelo prima di avviare i lavori ma anche periodicamente durante tutta la durata del cantiere. Il committente e un responsabile dei lavori devono richiedere a tutte le imprese, a tutti i lavoratori autonomi, il documento che attesta la validità della patente con il numero dei crediti in loro possesso. Così sapete anche se per esempio quell'impresa ha non so 16 crediti 15 crediti quindi 15 crediti quindi è molto vicina al rischio di sospensione dei lavori insomma quindi poi farete le vostre valutazioni. Quindi con questo documento verificate la validità e quanti crediti ci sono sulla patente. Se non hanno questa certificazione o se il numero di crediti è inferiore a 15 quindi se non hanno se un'impresa un lavoratore autonomo non ha la patente o ha il numero di crediti inferiore a 15 attenzione perché non potranno lavorare nel vostro cantiere quindi non potete affidare i lavori o nel momento in cui lo scoprite durante il corso dei lavori non potete farlo lavorare in caso di incidenti o di controlli altrimenti sarete assolutamente sanzionati. Quindi mi raccomando attenzione perché anche se non lo fate c'è una sanzione importante infatti a essenza dell'articolo 157 del decreto legislativo 81 2008 il committente responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori autonomi ma anche supponiamo che l'impresa sia esclusa dal possesso della patente perché è iscritta a una qualifica so a pari o superiore alla terza dovete comunque chiedegli appunto l'attestazione quindi di avere quel requisito ok quindi verificate nel caso in cui uno vi dice no la patente non ce l'ho perché sono qualificato a soa almeno pari alla terza come attestazione chiedetevi comunque il documento ok altrimenti rischiate una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 fino addirittura euro 2.562,91 quindi è molto importante come fare quindi per tutelarsi ci sono pochi passi semplici ma sono assolutamente da eseguire perché altrimenti rischiate appunto la sanzione primo passo numero uno è richiedere all'impresa di avere copia della patente a crediti prima di firmare qualsiasi contratto o iniziare qualsiasi lavoro verificate che il punteggio della patente sia pari a superiore a 15 crediti perché come vi ho detto se sotto i 15 non può lavorare nell'impresa nel lavoratore autonomo conservate copia della patente a crediti dell'impresa perché comunque del lavoratore autonomo perché comunque in caso di controlli potete dimostrare che avete fatto il vostro obbligo di verifica in questa maniera non rischiate sanzioni e poi infine ricordatevi che durante i lavori è bene periodicamente chiedere la patente l'aggiornamento della patente perché potrebbero purtroppo avere appunto perso i crediti iniziali a causa di infrazioni seguiti in altri cantieri quindi assolutamente importante fare queste questi pochi passi che vi permettono di essere tutelati nei confronti della sanzione che abbiamo visto prima spero che con questo video sia riuscito a farvi capire quanto sia importante che nel momento in cui ristrutturate il vostro appartamento o il vostro edificio verificate vi fate dare una copia della patente a crediti di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che opereranno appunto all'interno del vostro cantiere nei commenti fatemi sapere se questo video vi è piaciuto oppure se avete delle domande dei dubbi e mi raccomando prima di andare via non dimenticate di mettere un like ciao